Neumann, i baggy champion in Germania, con il suo lavoro. Faria, a Euro in Spagna, 1.8 scale on road track, presenta la sua macchina Infiniti e il traccio. Il figlio Filippo Domanin è anche qui, con la sua macchina X-Ray. Un grande squadro per l'Infiniti, nel campeonato europeo in Spagna. Nova Engines è qui, con i driveri d'Italia, ovviamente colari, testando e raccogliendo da Nova Engines.